salve a tutti oggi volevo recensire un liquido della tabacqueria che si chiama piloto cubano piloto cubano questo liquido annusando va bene l'odore della boccetta è vero sembra avete presente quando c'è questo piloto cubano no che ne so che poi si scrive pilota cubano che è sto piloto cubano ma dico umberto primo di savoia o come schifio si chiama lei ma le scuole le abbiamo fatte pilota con la no piloto cubano piloto cubano annusandolo va bene sembra appunto avete presente la giacca della divisa di un pilota che ha fumato emesse morbide per tutto il giorno dentro una stanza senza finestre la giacca è vero fa quella puzza di marciume va bene umido va bene che poi è il profumo del piloto cubano e allora fumandolo va bene è un tabacoso organico molto simpatico devo dire sinceramente molto dolce però me l'aspettavo più più delinquenziale come tabacco organico non è che non sia piacevole piacevole però mi manca quella delinquenza va bene che uno si aspetterebbe questo niente carissimi la tabacqueria andate alle scuole dovete andare alle scuole perché si dice pilota cubano no piloto cubano vergogna